Ciao, sono Maria Novella Viganò, autrice di Punto di Rugiada. Il mio romanzo era disponibile su Kindle, su formato digitale, su Amazon e per me è stata davvero un'ottima opportunità di fare conoscere la mia scrittura in una maniera molto agile e veloce ad un pubblico che in una libreria tradizionale probabilmente non avrei raggiunto. E oltre a ciò mi ha anche permesso di uscire dal mercato italiano con una bella sorpresa anche in ambiti diversi. E quindi io sono assolutamente una sostenitrice dell'opportunità di usare questi mezzi per diffondere appunto le proprie parole o quello in cui si crede sia nell'ambito musicale e letterario se c'è un riconoscimento per gli autori reggimentato appunto nei diritti e quindi per il proprio lavoro e per la fatica che si mette comunque nel creare un prodotto letterario musicale.